ok siamo di nuovo qua niente dobbiamo andare via adesso da qua praticamente io ho raccolto quello che c'era da raccogliere vabbè teniamo ce la vanno molto in caso che il sentiero dei defunti qui c'è poi un documento anche da prendere aspetta un po' ok allora è dall'altra parte se è dall'altra parte è sicuro andiamo io ho visto ho visto ok molto bene facciamo video più brevi quando riesco lo faccio anche leggermente più lungo qua se no io ci sono corpi ovunque quelle creatore li hanno uccisi ma per chi c'è 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 Ricerca in corso. Per ora, QH Yakup. Scoperto Tempio. Ricerca in corso. Cosa? O questo. Si bilava e si muoveva in modo così veloce. Lara, sembra la leggenda del pisztaco. Ci sta crescendo in giro. No, so cosa ho visto. Sei al sicuro? Sì, sto tornando. Non ho abbastanza spazio. Il medikit. Ma è... Sono pieno. Ops. Andiamo di qua. Di nuovo vado a prendere qui. Allora. 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 Quello. Non c'è più niente. Non c'è più niente. Ah no, non c'è niente. Tutto pieno. Non c'è nient'altro. mamma mia ma prima che facciamo tutta sta roba impossibile non ci sta nient'altro bene ok allora io direi che secondo me non ci sta nient'altro non ci sta nient'altro qui non ci sta nient'altro abbiamo tutti i tesoretti che si trovano ok, adesso dobbiamo andare piano dobbiamo andare piano guardare un pochettino cosa dobbiamo fare qua, le frecce ne abbiamo quindi poi qui ne trovi trovi roba quindi andiamo dritti di qua no, non muovo un po' a me impossibile, non ci sta nient'altro questo è un accampamento nuovo pieno e niente, ragazzi adesso ci lasceremo qui, perché io devo andare a farmi due commissioni e niente, facciamo questo accampamento e allora che cazzo dobbiamo prendere qua cosa possiamo Guardate quanta roba! Il mitra l'abbiamo messo a posto, adesso andiamo a vedere l'icona delle pistole, questa è a posto, l'icona dell'arco, dovete basarvi sulle icone, poi tenete schiacciata la X che gioca con le console e lui carica il potenziamento, molto bene, questa l'abbiamo fatta, non manca più tantissimo, insomma manca ancora, ragazzi io direi che ci possiamo lasciare qui, per il momento è un gioco, io vi dico la verità, preferivo gli altri due, ma non perché questo è brutto, c'era più da combattere, c'era più da sparare, questo è più una ricerca, però potenzieremo tutto, speriamo di potenziarci tutte le armi, come si deve, e niente ragazzi, per adesso è tutto, ci rivediamo alla prossima, ciao! Ciao! Ciao!